Sto studiando economia politica, questa materia è mitica, ma per fortuna c'è l'Alessandroni che ci mette dei corzoni. Smith e il sistema liberista, spesso li perdiamo di vista, e la prof, arrabbiata, di esercizi cene da una barcata, a sei Malthus, Marx e Riccardo, preferiamo voltare lo sguardo, per non parlare delle obbligazioni che le mangiamo con i maccheroni. Sto studiando economia politica, questa materia è mitica, per fortuna c'è l'Alessandroni che ci mette dei corzoni. Se il diritto vuoi studiare, le norme devi ricordare, e se giudice vuoi diventare, le leggi attuare. Se la scrittura non l'hai autenticata, devi farla in una certa data, e per le firme certificare, il notaio puoi chiamare. Sto studiando economia politica, questa materia è mitica, per fortuna c'è l'Alessandroni che ci mette dei botoni. Diritto soggettivo, assoluto o relativo, una sfera di potere, fra l'obbligo e il dovere. Diritti patrimoniali, di credito reali, non troviamo più una rima, ma era solo l'anteprima. Sto studiando economia politica, questa materia è mitica, ma per fortuna c'è l'Alessandroni che ci mette dei botoni. Sto studiando economia politica, questa materia è mitica, ma per fortuna c'è l'Alessandroni che ci mette dei botoni.